Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbonanza ordinaria di prima convocazione. Modifica di contaglio 2013, approvazione e variazione del sestamento bilancio di previsione e esercizio finanziario 2013. E l'ultima, approvazione e schiena di convenzione per i fici esistenti negli ambiti agricoli. I verbali erano all'interno dei documenti disponibili per il Consiglio. Se vi sono osservazioni favorevoli... Quattro, tre, tre, tre. Conte, grazie. Nessuno.